nel video precedente hai detto che ti stanno a sparare ti stanno a sparare bella ciao a tutti i ragazzi di questo nuovo video qui Mirko e Riccardo allora oggi siamo tornati su rotto commander e Riccardo non giocherà insieme a Alessandro e Riccardo non giocherà vi voglio ominidi no sta mappa stai da assunta guarda che dove è un schiotto ah dominio ah oh yes baby oh yes si come si si abbassa non mi ricordo niente perchè c'è l'idea ok 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 no perchè non è ok 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 oh mi è andato non è il nemico oh Oh, perché non mi ha cortevato? Ma un po' te non vedete E adesso devo portare Che pare che l'ha visto No 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 Non credo Oh, c'è un corpo, ragazzi Sì, è la mattina Oh, c'è un corpo Oh, c'è un corpo Oh, c'è un corpo Oh, c'è un corpo Sotto controllo Non è mai vero Ah, vedi Molte cose Cos'è da quando inizi la lavoro davanti a te? No Dropshot incredibile Lo hai accoltellato? No 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 Eccolo, eccolo No 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 Come back Domination Si parte allo stadio olimpico di Roma, tutto pronto Mamma mia primo sangue Red ball Oh in games Italia is a pick Ok No 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 Perino No abbiamo C G forluntino di Wapper 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 Spicazzo Poi ero Se riprendesse Ma stai trova Ma per sera Mamma mia Si sta Stai up Stai up Stai up Vedete torretta nemmata fatela Perché non vi la piace Catturatela 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 Fatela l'invasione Fatela Che sta vuoi? Mamma mia che fa play Oddio 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 no, il nucleare, ossia il nucleare ma comunque cazzo e vabbè fammi ricaricare, poi mi uccidi la soddisfazione del ricaricare è dumb voglio dire tempo di merda eh, camperino no, no, non voglio prenderci, fammene andare esci io so che tu esci taci i vostri quanti siete? mi uccisi tu eh? come cazzo? chi? chi ho ucciso? fk legge per favore solo lui, oh che cazzo, oh mamma mia i buchi sto personaggio oh occhio c'è dietro io ho detto che è serghei che non c'è i buchi oh! lo so io, un altro taci vostra cazzo c'era il mondo tutto il mondo proprio e che cazzo sarti non so ma ha cagato in testa con questo come Charlie sotto controllo e stanno i nemici cazzo sanno i nemici abbiamo perso c'è io non c'ho parola sta per finire un altro rivelno il round ma che cazzo ti sdraiati ma che è un vals che cazzo sei peruceto l'altro modo lo guava a fine round oh un tacci fuori voglio chiudere allora good job quant'è il parziale a fine prima tempo ah riccardo 659 che cos'è sto coso l'ha preso poco là 75 dalla torretta allora state sacchi del merda un po' 15 minuti un po' aiutare un po' aiutare un po' aiutare mi dai cazzo cazzo sartico che sei no che cazzo so quelle macchine dati un po' aiutare ce l'ho pure il walker paul walker per me poi c'è l'anima sua vai ah non trovano da soli io insomma bello eh 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 tripla tripla di walker qua oddio oddio mezza e latine non lo so guarda guarda quanti ti sto uccidendo sto walker è rapato rapatissimo no 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 il blade il warbird il warbird scuola conquistiamo bravo senso del merdo il warbird controllo controllatelo in culo conquistiamo bravo oh vieni qua ma che fa io sei pazzo sei un pazzo no no arenzo non so buono c'entra che vuol dire no no i buoni si non è buoni si non è buoni si non è buoni si non è buoni si oh bello eh bello eh bello merito a player non so tutto che sport non so tutto che sport oh che cazzo c'ho tutto c'ho io mettetevele io c'ho troppo cazzo 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 che sta fanno l'amore abbiamo perso bravo bello ti aiuto abbiamo perso il cazzo verso cia ok oh eh mortacci tu ho fatto volare ho fatto volare incontennato di questo il cazzo 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 perché la torretta non si arrapa no no tu sei alleato no 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 il cazzo il che trova riana l'ho la madre 12 34 strage davvero però pazzini un gol meraviglioso cazzo che caso è nei tre buchi questo gioco non è reale non riesco a entrare in tre buchi assurdo 50-14 dietro portacci cazzo portacci cazzo incredibile albash fallen liscio ma c'è questo ma che cazzo di malazione guarda lì uno là uno di qua ma che cazzo stai facendo hai quattro cantoni mortacci no 4 cantoni no tutti i angoli cazzo cazzo che cazzo vengono i caramelli tutti qua che cazzo non capivo pensavo la stessa la conquista ho visto l'alleato invece la stanno conquistando davvero ma c'è la vittoria abbiamo vinto ho fatto 57-17 4 prese 4 difese e va bene così grallo 20 ottimo se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace una condivisione soprattutto su twitter su twitter ma non su facebook su ask e viva carlo gallo 39 carlo gallo ma che cazzo di nome di nardala aspetta pack opening no posso farlo io posso farlo io o pack opening incredibile oh su area sif olle 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 o rifornimento elite elite ok e comunque bella riccardo non ha giocato raga il video è finito però ci tenevo a salutare tommaso che ci segue in ogni video successo di essere salutato ciao tommaso sei un grande che ci segui sempre e spero che vi sia piaciuto e bella ciao ciao